Lo scorso martedì 10 settembre, grazie al supporto tecnico di Coldiretti, i cereali coltori hanno avuto l'opportunità di osservare da vicino le diverse rese e l'adattabilità delle varietà coltivate durante una giornata interamente dedicata al mais. Infatti, anche per la campagna agraria 2024, l'agenzia 4A di Coldiretti Cuneo, in collaborazione col Consorzio Agrario delle Provincie del Nord-Ovest, ha realizzato un campo sperimentale di mais da granella. Presso i campi dell'azienda agricola Ambrogio, fratelli Bernardo, Guido e Flavio, situata nella frazione San Lorenzo di Fossano, sono stati messi a confronto 22 ibridi di mais da granella per valutarne i comportamenti e le principali caratteristiche. Lo scopo del campo sperimentale, l'unica variabile, quella genetica, è capire come si comporta sul territorio. Importante sicuramente sarà poi la valenza spazio-temporale, quindi i campi devono essere numerosi perché comunque le variabili sono tantissime e concentrarsi solo sul risultato di un campo è sempre un po' limitante. però dà già una bella idea ed è così, ecco che gli agricoltori possono vedere effettivamente in campo come si comportano gli ibridi, come si comporta il materiale genetico proposto dalle ditte sementiere. Su tutto comunque è un ringraziamento fondamentale alle ditte e ai tecnici e ai genetisti in modo particolare perché tutti gli anni si prodigano nella ricerca di ibridi sempre più performanti, sempre più produttivi, sempre più sani e sempre più rispondenti alle esigenze degli agricoltori in campo, sia per quanto riguarda ibridi da trinciato, con le caratteristiche delle piante da trinciato, che ibridi da granella, sia per quanto riguarda la produzione di granella, sia per quanto riguarda la produzione di pastone e sia nell'ambito di cicli più lunghi e cicli più corti. Sappiamo che i mais sono classificati in classi che vanno dalla classe 700, che è generalmente la più lunga del territorio, di 132-135 giorni, a classi 200 molto più precoci, molto più corte, che così consentono magari semine più tardive e garantiscono comunque di poter raccogliere il raccolto in campo in autunno. Qua si è divisi in diverse varietà per file. La fattispecie del campo ha previsto la coltivazione di ibridi da granella. La maggior parte sono classi 500-600, che sono un po' la classe che per quanto riguarda il territorio fossonese va un pochettino più per la maggiore, in quanto generalmente rispetto a classi di cicli più corti, tendenzialmente più performanti. Ecco che allora in questo contesto di alta fertilità, grazie appunto anche all'allevamento degli animali, apportano un mezzo tecnico assolutamente fondamentale e importante, che è il liquame, che è l'etame, ossia un sottoprodotto dell'azienda azotecnica che proprio in campo si rileva un mezzo tecnico fondamentale in quanto apporta azoto, fosforo, potassio, quindi macro elementi, ma anche micro elementi e fa fare struttura al terreno. Abbiamo seminato ibridi proposti dalle case sementiere, consigliati dal Consorzio Agrario, per così verificare effettivamente in campo i livelli produttivi, le performance produttive, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Questi campi sperimentali quindi sono una grande mano per gli agricoltori locali? Prima cosa ringrazio le aziende che sono disponibili a fare i campi sperimentali, perché ci vuole tempo, ci vuole voglia di fare, con i tecnici Cata e con il Consorzio Agrario stanno facendo dei campi e rappresenta per noi agricoltori, di fatti oggi c'è tantissima gente, di gente che viene a vedere per sapere cosa seminare, i tecnici spiegano se c'è qualche controindicazione, c'è qualche perplessità su qualche mais o sono mais produttivi e tutto. E questo per noi è basilare, perché i campi sperimentali per noi agricoltori sono, non dico quasi indispensabili, ma lo sono veramente. Anche perché quest'anno è stata un'annata in cui il cambiamento climatico si è fatto molto sentire per il comparto. Questo sì, perciò con il cambiamento climatico che è tutto più difficile per far produrre, benvengo in questi campi sperimentali, perché in annate avverse si vedono proprio le diversità nelle varietà. Cosa rappresenta per il fossanese il comparto del mais? Il comparto del mais nel fossanese rappresenta una grossissima percentuale e quello che va per la maggiore anche perché la zootecnica nel fossanese, su unicoltura e tutto è molto alta, è molto concentrata e perciò i campi di mais sono ovunque. Poi abbiamo la fortuna di avere nel fossanese dei terreni molto fertili dove il mais rende ancora molto.